salve ragazzi buongiorno perché vedrete questo video domani mattina cioè adesso vediamo le ultime notizie cioè le notizie di ieri sulla formula 1 partiamo con un Verstappen e Leclerc Horner domenicali parate di vip al galà a bologna c'è stato il galà i premi della formula 1 ma noi non ci interessano formula 1 Verstappen secondo titolo più gratificante del primo oddio oddio per come l'ha vinto secondo me è stato più gratificante il primo l'ha vinto all'ultimo e non sa poi è sempre il primo questo l'ha vinto con 900 punti di distacco vabbè contento lui altra notizia Horner mercedes e ferrari spingeranno molto nel 2023 è già già mette le mani avanti loro già hanno vinto il titolo mondiale del prossimo anno è già mette le mani avanti va bene il galà si parla sempre di galà red bull horner titolo costruttori dedicato a matesic vabbè il patron la red bull che è morto Verstappen lottare con Leclerc è diverso rispetto a Hamilton e grazie praticamente non è quasi da metà campionato in poi non è quasi mai lottato e formula 1 newy ammette il progetto rb 18 è partito in ritardo questi sempre le mani avanti mettono è sempre a me sta cosa va da un nervoso formula 1 marco non ha dubbi vogliamo essere dominanti anche nel 2023 ma anche noi non abbiamo dubbi che sarà dominante la red bull nel 2023 perché o leo il motore e l'aerodinamica o è qualcun altro che li avvantaggia saranno sempre dominanti per adesso poi Verstappen e rivela marquez un guerriero ma e vorrei provare una moto gp ok Verstappen insaziabile possiamo fare ancora meglio è ancora meglio hai vinto 70 mila milioni di punti 70 mila miliardi di punti di vantaggio vuoi fare ancora meglio che cosa vuoi fare poi vince 8 gare in una vabbè insaziabile qui cosa di cosa dicono leclerc al galafia torno l'anno prossimo da campione mini iniziamoci a grattare leclerc sul prossimo team principal ferrari deve essere onesto quindi presumo la cosa che che mi viene in mente è che di noto qualche cosa ha fatto infatti c'è oltre a agli errori ma proprio nel rapporto con leclerc leclerc avessero in ferrari per eva sono in ferrari per la svolta adesso voglio il mondiale a me queste dichiarazioni proprio non piacciono eclerc ferrari si poteva lottare per il titolo troppi problemi dopo barcellona problemi causati ferrari leclerc ecco la mia vittoria preferita vabbè ok leclerc potevamo lottare per il titolo troppi errori ferrari vassero sempre più vicino alla decisione la si dice fine 2022 o inizio 2023 e grado gomme ferrari schiettezza leclerc pure il degrado le gomme un problema alfa romeo prepara la di avessor prima del sia ferrari e clerk per me non è facile aspettare sono un tipo impaziente vabbè dopo quello che t'hanno fatto ovviamente t'hanno messo i bastoni tra le ruote la ferrari svella il vero motivo del mancato sviluppo delle f 175 non è stata una scelta anomolo e non lo leggiamo aspetta è formula un 2022 l'ultimo date introduce la livrea audio audio audi ed è già 2026 piastri spiega la scelta dell 81 va bene piastri dovrà dimostrare il suo valore vediamo questa cosa dell'audi e poi la notizia della ferrari formula 1 l'ultimo date introduce la livrea audi ed è già 2026 anzitempo rispetto allo sbarco previsto tra quattro anni ama quindi quindi audi entra in formula 1 tra quattro anni credevo già dall'anno prossimo è già entrata nel mondo la formula 1 con la speciale livrea in nella psula playstation insomma in f1 2022 l'audi entrerà nel mondo della formula 1 soltanto nel 2026 allora così ma intanto si guadagna uno spazio tutto suo nel videogioco ufficiale all'ultimo aggiornamento vabbè introdotto la livrea dell'auto con cui la casa tedesca ha svelato il proprio ingresso nel grande circus va bene quindi al 2026 torniamo dietro alla notizia ho detto torniamo dietro alla notizia no grazie gazzetta grazie che ci blocchi eccolo non a posto la notizia che mi interessava la ferrari svela il vero motivo del mancato sviluppo vediamo un po come prima uno detto no ma l'abbiamo fatto perché il motore era sovra potenziato quindi per non problemi di affida e non incorrere in problemi di affidabilità vediamo qual è non è stata una scelta a il team principal dimissionario mattia binotto amo parla binotto ha svelato il vero motivo per il quale la ferrari nella seconda parte del mondiale di formula 1 22 non è stata competitiva con la red bull leggiamo cosa si sono inventati adesso dopo l'ottimo inizio va bene non è stato quello spiegato il secondo posto la classifica piloti come ha fatto ok ok errori di strada l'ultima gara di errori di strategia dei driver dei driver pure dei piloti problemi di affidabilità delle vetture il divario ok non riportare il titolo a maranello qua non dice ancora niente ed è tutto questo che ha portato alla sfiducia nei confronti del di binotto dimissione rassegnate sì ma voglio sapere la notizia l'ingegnere reggiano eccolo che di recente si è congetato va bene presenziando dall'ultima volta al consiglio mondiale formula 1 su se resta indizia beh seppur di missionario rimarrà ancora in carica quindi rimane in carica fino al 31 dicembre per seguire gli ultimi lavoro sul monoposto bene prima di salutare definitiva e andiamo alla notizia prima di salutare definitivamente lo stesso di binotto ha però voluto fare chiarezza su uno dei misteri che hanno accompagnato la ferrari nell'ultima parte dello scorso mondiale a parte disastrosa diventata poi anche una delle cause principali della rottura con i vertici vale a dire l'apparentemente inspiegabile calo di prestazioni da f1 75 la seconda parte di stagione ok ma su alla notizia molti hanno cercato di spiegarlo con l'introduzione della direttiva tecnica 039 meglio note come regola anti-purposing che avrebbe penalizzato le monoposto del cavallino più delle altre di conseguenza le colpe sono rigadute su mattia binotto re di non essere stato in grado di imporsi un trotto di wolf che aveva la fia ottenendo benefici immediati da dove la ferrari è stato anche addossata la responsabilità di aver poi fatto una fragare le speranze ridate le grazie vabbè ma io voglio ecco secondo quanto rivelato dallo stesso mattia binotto però non è andato esattamente così quindi niente colpa della fia niente regola 039 niente decisioni di depotenziare il motore vediamo che cosa dice binotto il vero motivo del mancato sviluppo sulla vettura contrariamente a quanto invece fatto dalle squadre rivali nella fase cruciale della stagione non è stata una scelta bensì una costruzione dettata dai fondi a disposizione quindi il fondo non è stata una scelta abbiamo semplicemente abbiamo semplicemente i soldi del budget cap eravamo al limite quindi non avevamo più opportunità di sviluppare la macchina quindi erano finiti i soldi in pratica erano finiti i soldi per lo sviluppo semplicemente siamo rimasti al punto in cui eravamo ha di fatti ammesso il team principale uscente della ferrari i costi aggiuntivi che non potevamo permetterci erano quelli della produzione delle nuove componenti e loro utilizzo in pista ci sarebbe soltanto una questione economica quindi ma non abbiamo compromesso lo sviluppo della macchina della prossima stagione assicurato c'è incredibile quindi il mancato il mondiale è andato a schifio e il mancato sviluppo della ferrari è perché sono finiti i soldi sono finiti i soldi mentre gli altri hanno centellinato i soldi sviluppato la macchina come gli pareva soprattutto nella seconda parte della stagione a noi alla ferrari sono finiti i soldi boh a me questa dichiarazione mi sa un po di onzata mi sa un po però se lo dice mattia binotto ci crediamo noi io rimango veramente senza parole ragazzi e confermo ancora per una volta ancora di più che se se ne è andato è un bene altri ho sentito dire qualcuno no ma se ne è andato binotto siete contenti ma sarò una disfatta se ne è andato cominciamo da un nuovo progetto da capo e basta cioè erano finiti i soldi per questo è andato tutto a schifio e se la ferrari alla fine sai come finisce ragazzi la ferrari è l'unica che rispetta il budget cup e gli altri fanno tutti come gli pare tanto non gli faranno mai niente non l'indagheranno mai eppure se l'indagano visto le penalità penalità proprio purtroppo se succeda una cosa del genere alla ferrari e ferrari lo sanno bene la penalità sarebbe pesantissima o vabbè ragazzi guarda io ho fatto andare di traverso anche il caffè di questa mattina e ringraziatemi e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao